Salve a tutti, torniamo con il nostro Paolo Nardovino, ormai appuntamento fisso e anche direi ciclico, perché analizziamo con te Paolo, molto spesso anche in questo canale, la teoria dei cicli e quello che ci dice via via che il tempo scorre e il mercato eventualmente vi si adegua, tu chiaramente sei uno dei massimi esperti di questo approccio di stare al mercato, di guardare il mercato, quindi ci siamo visti l'ultima volta qualche mese fa quando questa teoria ipotizzava, ma poi ti chiedo un piccolo remind, ipotizzava un allungo importante nel primo trimestre delle borse verso nuovi record, anche magari a dispetto di tanti altri pareri, tante altre discipline eccetera eccetera e quindi oggi è il caso di fare nuovamente il punto su quello che appunto questa teoria ci dice, ma prima appunto ti chiedo di presentarsi nuovamente per chi non ti conosce, per quei pochi che eventualmente non ti conoscono e ovviamente invito tutti della community a osservare anche i video precedenti che trovate sul canale dove con Paolo abbiamo proprio affrontato la teoria dei cicli anche dando un po' di spiegazioni di come eventualmente funziona. Paolo benvenuto e bentornato. Grazie Vito, grazie per l'invito, sempre ben accetto. Io sono un analista specializzato nelle tecniche di GAN e sto approcciando il mercato appunto con la teoria dei cicli di GAN che è una teoria molto antica, più di un secolo, che però anche in questa fase di mercato continua a darmi alcune conferme importanti sul mercato americano. Analizziamo il mercato americano perché è quello che ha una base dati più lunga di tutti gli altri mercati e anche relativamente più affidabile perché anche ad esempio il DAX Index, potremmo fare anche dei discorsi sul DAX Index però ha avuto nel corso della storia del secolo scorso molte fasi di interruzione, per alcuni anni non è stato possibile registrare i dati sul DAX, quindi abbiamo delle difficoltà a approcciarci con i cicli di lungo periodo. Però anche sul DAX, poi faremo vedere, c'è un movimento che era possibile ipotizzare con questa teoria dei cicli. Negli scorsi appuntamenti, l'ultimo appuntamento era a gennaio, eravamo su un mercato americano che già aveva dato una fase importante di rialzo, però io dissi che c'era la possibilità, perché era prevista da questa teoria, che il mercato potesse proseguire fino a sopra i 5.000 punti di Standard & Poor's, aveva un'area indicata intorno ai 5.200 punti, che poteva essere un primo apice di questo trend previsto appunto per questo trimestre. oggi è una data importante per chi utilizza i tech di canne, il 20 marzo, la data dell'equinozio, ed è una data importante anche perché oggi abbiamo la riunione e la decisione della Federal Reserve sui tassi, quindi siamo in un momento importante del mercato. Io posso condividere lo schermo? Sì, tra l'altro io sono personalmente oggi molto interessato a capire se la Federal Reserve andrà a modificare il tasso di neutralità, il tasso neutrale. Sappiamo che il tasso neutrale è quel tasso di interesse di lungo termine che secondo una banca centrale non fa né danni né va a stimolare l'economia. In questo momento questo tasso, chiaramente che non è scientifico, ma è un'ipotesi delle banche centrali, per quanto riguarda gli Stati Uniti è al 2,5%. Quindi sarà interessante capire nei dot plot i documenti che poi pubblicano ogni tre mesi quando c'è un incontro della Fed, se verrà alzato o meno questo tasso, perché in quel caso chiaramente cambierebbe un ingrediente della ricetta dei mercati che viviamo con passione tutti i giorni. Ma Paolo, adesso torno nuovamente a te la parola e i tuoi grafici. Ti chiedo anche solo un minuto di remind sulla differenza, perché il nome poi spesso può trarre l'inganno, tra analisi dei cicli e analisi ciclica. C'è quella CA che però fa la differenza. Allora, Gann parlava di teoria dei cicli o analisi armonica, intendendo con questo lo studio matematico dell'applicazione dei cicli naturali. I cicli naturali intendeva i cicli che sono presenti in natura, come possono essere il ciclo annuale, il ciclo di 60 anni, il 90 anni, il 45, sono tutti i cicli che corrispondono a fenomeni naturali, osservabili e misurabili matematicamente. Quindi per Gann i cicli che intervengono sul mercato sono gli stessi che intervengono in generale sul sistema generale. Aveva una visione olistica del mercato, quindi il mercato non è un sistema isolato, con leggi proprie che non rispondono alle leggi generali. Questa è l'assunzione. Facciamo noi, anche chi utilizza queste tecniche fa la stessa assunzione, quindi sfruttiamo la teoria dei cicli naturali. Ci sono i cicli che hanno una lunghezza predeterminata, hanno anche le loro armoniche, matematicamente calcolabili, quindi si fa il calcolo sui vari sottocicli, però sono cicli che non vengono calcolati sul grafico dei prezzi del mercato. Questa è la grande differenza che c'è con l'analisi ciclica, quella moderna, che è comunque un'analisi valida che io stesso conduco, però devo scegliere tra le due la parte predittiva che può avere questa teoria, la teoria dei cicli di GAN, a mio avviso dà dei risultati a lungo termine migliori. Ora, questo che sto mostrando è sempre il solito grafico che avevamo visto nella situazione in cui siamo adesso. Questo è l'indice standard and poor calcolato sul grafico giornaliero. Abbiamo una fase di raggiungimento di una soglia importante a gennaio, quando io solitamente all'inizio dell'anno preparo i grafici per i miei clienti e mostro più o meno quella che potrebbe essere, secondo le ipotesi di questa teoria sul tempo, ma anche secondo calcoli che altre tecniche di GAN mi consentono di fare sul prezzo, avere dei riferimenti prezzo tempo, quantomeno con un margine settimanale di errore. Ora vi faccio vedere il grafico che ho presentato all'inizio di gennaio ai miei clienti, che prevedeva, ecco questo è il grafico, questo è il 2 gennaio, questo era il momento in cui abbiamo fatto questo grafico e prevedeva quantomeno un rialzo fino ai 5200, qui era, tra la fine di febbraio, la data che avevo io come data civica è la data del 23 febbraio, è una data indicativa perché il periodo, come disse anche nei cicli precedenti, è tra la fine dell'ultima decada di febbraio e diciamo la prima decada, la prima metà di marzo. Questo era il momento in cui potevamo attenderci l'apice del movimento rialzista, che era previsto però un movimento rialzista continuo perché c'era il contributo continuo, costante e concorde della maggior parte dei cicli maggiori sul mercato. I cicli maggiori intendiamo i cicli a partire dal vent'anni, trent'anni, sessant'anni, il novant'anni, poi anche i cicli superiori che davano tutti la stessa indicazione. In confluenza quindi, in confluenza. C'era un segnale concorde, questa concordia dalla metà di febbraio inizia a venire meno e a fine marzo non c'è più. Quindi questa è la grande notizia, diciamo, per quello che riguarda il proseguo dell'anno. Sì, per adesso, nel senso noi avremo una fase, poi si riaccorderanno alla fine dell'anno, alla fine dell'anno ci saranno nuovamente indicazioni, quindi avremo una fase di almeno due trimestri in cui i cicli danno indicazioni differenti. Ci sono alcuni cicli, come il ciclo di 60 anni, che continuano a dare indicazione rialzista, forza al mercato, però non è più supportato dalla concordia degli altri cicli. E c'è uno dei cicli che quest'anno potrebbe avere la prevalenza che a me preoccupa molto perché è un ciclo che porta a una fase di bassista pronunciata. Questo però, diciamo, essendo l'unico ciclo, un solo ciclo, dei cicli maggiori, ce n'è uno che preoccupa. Speriamo che si faccia i fatti suoi. E qual è questo? Il 10 anni? Il 50 anni, il ciclo 50 anni, che tra l'altro è importante perché oltre ad essere un ciclo importante in sé, il ciclo di Giubilei, è anche l'armonica del ciclo di 100 anni, del ciclo maggiore, che comunque l'anno scorso è stato importantissimo, perché di tutti i cicli noi andiamo a vedere anche poi le date che corrispondono e il ciclo ha fatto il minimo esattamente sul minimo di 100 anni. Cioè la data del minimo del 27 ottobre che era indicata, io avevo una data indicativa, il 23 ottobre avevo come data, ha fatto il 27 ottobre il minimo, corrispondeva esattamente a quello che ha fatto 100 anni fa. E anche il movimento successivo, il rialzo fortissimo che c'è stato dopo il minimo del 27 ottobre era esattamente corrispondente a quello che ha fatto 100 anni fa. Quindi il 50 anni è un'armonica di questo ciclo e essendo un ciclo che porta una fase importante di ribasso, tra l'altro 50 anni fa il massimo fu fatto esattamente il 14 marzo. Quindi un'altra ricorrenza con i massimi che ha fatto, probabilmente oggi potrebbe anche ritoccarli. Siamo in date particolari in cui è possibile vedere la fase culminante. Diciamo che dalle indicazioni generali, perché noi non è che possiamo, dalle indicazioni generali, se a gennaio eravamo abbastanza confidenti nel proseguire la fase rialzista, adesso io inviterei un po' più alla prudenza. Diciamo che su alcuni settori, su alcuni indici abbiamo avuto un sentore dell'inizio di una fase distributiva. La fase distributiva naturalmente non vuol dire che il mercato scende subito, ma che potrebbe iniziare una fase in cui, alti e bassi, è più conveniente stare fuori che stare dentro. Quindi questa è la fase in cui chi è entrato prima e ha fatto profitto chi è entrato prima può ancora mantenere qualcuno a cui vendere le proprie azioni, qualcuno che compra a questi prezzi. C'è sempre qualcuno che compra le azioni. Diciamo che chi è entrato bene può anche mantenere gli investimenti, perché in linea generale le attese sono per correzioni fisiologiche, non per inversioni di mercato. Questa è una cosa importante che voglio sottolineare. Le indicazioni di medio e lungo periodo mi dicono che i minimi fatti a ottobre del 2022 sono minimi ciclici importanti che possono durare per alcuni anni, quindi non è attesa a breve un ritocco di quei valori. Quindi 3.500 dell'S&P 500 se non sbaglio. Quella è la base, da lì stiamo costruendo il nuovo palazzo. C'è stata un po' di fretta nel costruire le prime pareti, quindi necessita un po' di riposo, ma il palazzo non è finito. Va ancora ultimato, quindi probabilmente avremo ancora delle fasi di ulteriori spunti rialzisti nei prossimi primesti e nei prossimi anni. Nel breve non è da escludere una correzione secondo la divergenza ciclica che tu intravedi nei tuoi modelli. Sì, dovrebbe formarsi, abbiamo detto che quest'anno poteva essere un anno cammello, dovrebbe formarsi la prima bomba. Questo è un primo movimento che per alcuni mercati, ad esempio anche in passato noi abbiamo avuto il Dow Jones che anticipava un po' il massimo. Il Dow Jones ha fatto esattamente il massimo della data che avevo previsto del 23 febbraio. Per adesso è quello il massimo. Ed è un mese che sta oscillando con un'azione che io ritengo distributiva. Poi anche su queste cose stiamo facendo dei modelli. Io sto collaborando adesso con un'importante azienda italiana di informatica per tradurre con l'intelligenza artificiale tutti questi modelli e anche altre tecniche di GAN. Stiamo facendo un progetto molto importante. Poi magari quando sarà più avanzato ne possiamo anche parlare con te, Vito. Volentieri. È un progetto molto importante. Quindi stiamo lavorando anche da questo punto di vista. Noi abbiamo, stiamo vivendo adesso una fase in cui c'è un'oscillazione abbastanza ampia nel mercato. Anche sul Nasdaq abbiamo visto. Ieri c'è stata un'apertura molto bassa. Lo stesso titolo Invidia ieri ha aperto a 8,50 e ha recuperato 50 dollari nel corso della seduta. Sono oscillazioni ampie. Solitamente io anche ai miei allievi ai corsi faccio notare questa cosa. Quando il mercato si mantiene sugli stessi prezzi, però oscilla molto, cioè le oscillazioni sono più alte, più ampie della media, siamo probabilmente in fase distributiva. Quando invece il prezzo resta costante e l'oscillazione è molto stretta, allora è accumulazione. Quando è più nervoso nel trading range? Quando è molto nervoso è perché qualche manoforte inizia a mollare l'osso, cioè diciamo a cedere le azioni nelle mani deboli, quindi c'è un po' più di oscillazione. Quando invece c'è l'accumulazione, la fase di accumulazione non ci sono grandi oscillazioni. Questa è proprio una cosa di esperienza che ho notato e che effettivamente nel corso dell'ultimo ventennio mi ha dato conferme. Adesso iniziano ad esserci delle oscillazioni non piccole e solitamente questo va da preludio a una consegna da parte delle mani forti nelle mani deboli. La differenza tra le mani forti e le mani deboli è che le mani forti sono forti appunto perché hanno la forza poi di difendere il titolo e ma i deboli non hanno la forza per difendere il titolo. Quindi poi se c'è un attacco ribassista viene giù. Non siamo ancora nella fase di inversione e di ribasso, siamo nei tempi e anche nei prezzi previsti perché se facciamo vedere, faccio vedere un modello mensile, per marzo era previsto l'approdo in quest'area di prezzo, sono due valori calcolati matematicamente appunto con le tecniche matematiche di Gann, abbiamo sull'indice questi due valori erano 4.986 e 79 come diciamo il valore minimo da fare, è un valore massimo che si spinge fino a 5.263,86 che è proprio il valore dell'angolo principale che proviene dal minimo del Covid. Quindi abbiamo questi valori sono dell'indice normale o anche sul futures? No, sono sull'indice. L'analisi di lungo periodo le conduco sul cash, sull'indice cash. Chi ha un po' di dimestichezza vede anche che questo .79 e .86 sono i decimali rispettivamente del minimo del 2009 perché era 666.79 e del minimo del Covid che è 2.191.86. quindi sono valori che derivano da quei valori lì. Anche decimali non a caso diciamo. Il calcolo è matematico. Allora teniamo conto di una cosa perché per quanto possa sembrare strano ma le tecniche di Gann sono tutte basate sulla matematica, è tutto matematico, quindi è tutto implementabile con algoritmi. Ed è questa una cosa importante perché l'elemento discrezionale è ridotto al minimo. Abbiamo dei valori oggettivi. Questi sono delle tecniche che ci danno dei numeri oggettivi calcolabili con mesi se non anni di anticipo. Quei valori li sappiamo. Marzo era quei valori. L'intervallo era quello. Punto. Cioè non c'è un'opinione. Chi conosce queste tecniche sa che sono quelli i valori. Come ad esempio sul DAX. Sul DAX un movimento come quello che abbiamo visto. Io lo avevo anche anticipato ai miei clienti. Avevo detto facciamo attenzione perché sentivo che c'era una tendenza anche abbastanza diffusa di andare short su DAX. Ora questo è un grafico che io feci il 6 dicembre del 2023 e avevo individuato. Ora non so se si vede bene perché siamo con la parte. Avevo individuato questa linea blu. Ecco qui si vede bene. Questo percorso blu da fare perché ciclicamente il DAX fa queste cose. Questo è un altro ciclo importante molto importante che è un ciclo a 9 anni che è un'armonica di un altro ciclo importante. Sul DAX guardiamo cicli un po' più a corto raggio. Questo era l'andamento previsto. Adesso se andiamo a vedere il grafico attuale è questo. Ecco guardate qui. Ora potrebbe anche spingersi fino alla parte alta. Siamo con i tempi più o meno qui. Ma perché uno può fare questa cosa? Perché in passato il DAX ha fatto esattamente questo 9 anni prima. Questo è il movimento. Si calcola il ciclo. Si fa l'ipotesi. L'ipotesi era non andate short. Cioè l'ipotesi era questa. Non andate short. A gennaio ci è fatto davvero male in questi tre mesi sul DAX. Sul DAX purtroppo c'è anche ci sono delle coincidenze proprio con anche con i fondi. Gli stessi fondi che andarono short allora. Perché il DAX non solo il DAX ma i titoli del mercato tedesco ha già in passato hanno ehm se ti ricordi il famoso short squeeze su Volkswagen hanno ehm hanno mazzolato i fondi short ehm quindi c'è anche una storia del mercato tedesco che eh diciamo anche a livello politico non tollerano ehm tanto l'apertura di short così senza consenso senza senza giusto perché è salito tanto ecco diciamo così eh il mercato tedesco è un mercato importante sta facendo da guida e ripeto gli acquisti fatti tra eh novembre e dicembre quando non erano acquisti eh soltanto di copertura di short erano anche acquisti netti quindi la lo short era strutturalmente e eh anche mh temporalmente sbagliato cioè non si doveva prerlo. Adesso siamo in una fase in cui si può costruire un massimo magari da qui sul contratto giugno è probabile vedere rispetto ai prezzi attuali anche dei prezzi più bassi quindi volendo intorno a quest'area qui eh di sopra dei diciotto mila eh uno può anche eh iniziare a valutare un'operazione di distorno del mercato però non escludiamo che il DAX possa anche proseguire al rialzo solitamente la la parte finale del mercato il DAX è quello che fa più male agli short quindi è un è un mercato abbastanza eh disgraziato da sto punto di vista chi si mette contro lo sa. Stavo stavo guardando se non sbaglio l'ho anche pubblicato su Twitter il ratio tra eh Wall Street le borse europee e ho visto che dal venti dall'ultima parte di gennaio le borse europee eh stanno costantemente sovraperformando sia il DAX ma anche lo Stoxx 50 l'S&P 500 guidato dalle magnifiche sette quindi le borse europee pur non avendo le magnifiche sette eh stanno sovraperformando quindi mh tu pensi che eh i tuoi modelli ovviamente visto che Wall Street probabilmente è in entrata in fase di distribuzione anche l'Europa è in distribuzione oppure è un po' diverso il movimento? Allora dobbiamo dobbiamo fare una distinzione però perché Wall Street ehm come dicevi tu erano sono pochi i titoli che hanno guidato eh la gran parte dei titoli ehm sono rimasti a prezzi bassi e su alcune azioni io le ho presentate anche ai miei eh i miei clienti le ho fatto vedere ci sono delle azioni che sono a scontissimo cioè sul mercato americano si trovano delle aziende ora per fare un esempio non dico il nome ma c'è stata un'azienda che quotava zero virgola nove dollari il giorno dopo eh il consiglio di amministrazione ha deciso di distribuire un dividendo di zero cinquanta cioè più del cinquanta per cento della capitalizzazione di borsa che quotava il mercato quindi capiamo che ci sono questa questa se vuoi puoi anche dirle che è clamoroso magari parliamo ma ce ne sono tanti di altre aziende che eh capitalizzano due virgola cinque milioni e hanno venduto i proprio a i propri asset una parte dei propri asset per quattro virgola cinque milioni quindi qualcosa di distorto sul mercato americano c'è anzi io penso più di qualcosa perché c'è un'attività di short indiscriminata che sta penalizzando in maniera eccessiva tantissime aziende piccole e medie e premia indiscriminatamente anche oltre il dovuto di queste aziende che stanno in questo settore c'è un tecnologico e dell'intelligenza artificiale quindi uno stock picking attento a mio avviso non può non tener conto di questo e questo significa anche che non è cara la la il mercato generale non è un mercato caro ci sono dei settori che sono oggettivamente cari altri invece che sono delle opportunità a mio avviso secolari su un azionario parliamo di azioni a medio picco medio piccole se uno riesce a fare uno stock picking attento si possono trovare delle delle occasioni ehm io proprio in questi mesi che sto facendo questa attività capisco quello che diceva Warren Buffett gli investitori sono stupidi cioè si trovano dei prezzi che non devono esistere su sia al rialzo che al ribasso quindi ci sono delle occasioni poi magari uno le prende bisogna avere la pazienza di aspettare che il mercato si renda conto del del fatto che non le ha volute guardare per tanto tempo a chi le sa vedere sì ma perché c'è purtroppo ribadisco questo c'è un'attività short eh a mio avviso distorcente eh del mercato quindi questa andrebbe meglio regolamentata adesso stanno iniziando a delle procedure di regolamentazione per questa attività ma è ehm diciamo ancora al di là da venire per quanto riguarda la risposta alla tua domanda sì il mercato italiano e il mercato europeo ehm stanno solo performando perché erano oggettivamente a prezzi migliori in generale rispetto a Wall Street rispetto diciamo ai big di Wall Street quindi il mercato sta anche eh diciamo riadeguando eh e quindi la performance che vediamo in questo primo trimestre è una risposta ad un riadeguamento di questo dei fondi che magari stanno un po' vendendo le azioni americane e iniziano a valutare eh l'acquisto di azioni europee che sono comunque con buoni multipli ci sono delle aziende che hanno multipli non paragonabili a a quelli di delle aziende di Wall Street delle omologhe aziende di Wall Street eh poi c'è il discorso che ehm siamo in una fase in cui eh i tassi di interesse sono ancora alti quindi il il settore bancario è ancora premiato eh abbiamo avuto una fase di alzista importante anche nel mercato italiano perché il settore bancario nel mercato italiano è uno dei settori principali eh poi ci sono anche altri titoli come abbiamo visto eh Ferrari vedevo stamattina quasi nuovamente a quattrocento quindi è quasi arrivato a fare i nuovi record eh ci sono realtà importanti che eh vengono ancora il mercato continua ad acquistarle e anche sull'indice tedesco e sugli indici francesi quindi abbiamo anche l'Eurostox eh che però da quando ha fatto la scadenza tecnica perché c'è anche questo sia il Dax sia l'Eurostox che il l'indice italiano hanno fatto le scadenze tecniche di marzo il quindici marzo su valori tondi quindi l'Eurostox ha fatto cinquemila eh il Fib ha fatto di trentaquattromila come livello di di scadenza e il Dax ha fatto la scadenza proprio sul valore massimo sul massimo dei massimi ehm perché ha fatto la scadenza l'indice Dax ha fatto la scadenza se non mi sbaglio il settlement è stato diciotto mila trentaquattro e il massimo assoluto ad oggi è diciotto mila trentanove quindi hanno tirato il collo agli short fino all'ultimo secondo col settlement della scadenza questo è già una testimonianza a conferma di quello che diciamo che questo movimento la parte finale è comunque dovuto alle coperture adesso le coperture in gran parte ci sono state c'è una delay di una settimana dieci giorni di di riassestamento probabilmente poi rivedremo eh eh una nuova fase sul mercato da un punto di vista generale ciclico eh ripeto il i cicli maggiori sono rialzisti di fondo cioè un rialzo di fondo alcuni danno delle fasi di eh riassestamento ehm si concentrano queste fasi nel nella fine del del primo trimestre nell'inizio del primo trimestre nell'inizio del secondo trimestre quindi tra aprile tra fine di marzo aprile e l'inizio di maggio potrebbero esserci delle delle fasi correttive che a mio avviso non dovrebbero andare circa 50 anni permettendo non dovrebbero andare al di là del dell'ordinaria correzione quindi un 5-6% sul mercato giusto per riassestare gli indicatori ecco ad esempio guardando il DAX questo è un grafico settimanale noi abbiamo che il siamo in zona di ipercomprato anche conclamata queste zone qui sono state viste non cioè un ipercomprato così pronunciato dobbiamo andare indietro di parecchi anni per vederlo sul DAX quindi quando c'è un ipercomprato così eh la possibilità che possa presentarsi uno storno di di l'ordine di grandezza che di cui parlavo è è molto alta e a mio avviso è consigliabile conveniente magari tirare un po' e rimbarca anche perché chi ha fatto il primo trimestre al rialzo credo che possa aver fatto buona parte della performance annuale e sì quindi e quindi diciamo per quanto riguarda l'Europa vedi un cammello cioè che iniziano a disegnarsi delle gobbe ma un cammello che comunque sta facendo sta salendo quindi alla fine poi il grafico finale potrebbe essere proiettato io penso che in generale tutti anche nel anche per quanto riguarda gli Stati Uniti io penso che alla fine dell'anno la cioè il risultato rispetto alla chiusura dell'anno precedente sarà positivo solo che non sarà un anno il 2023 è stato un anno fortemente rialzista abbiamo avuto una prima fase rialzista poi c'è stata la correzione estiva e l'ultima fase super rialzista che ha portato la performance finale credo a un 25 per cento dello standard tempo adesso abbiamo avuto la prima fase di rialzo magari potremmo avere delle correzioni poi nuovi rialzi nuove correzioni a fine anno sarà risultato positivo però te lo farà sudare risultato positivo rispetto all'anno scorso che era molto più semplice questo era la differenza saranno entrambi magari anni positivi anche perché poi c'è l'anno elettorale quindi tutta parte dell'anno solitamente si saluta il presidente con una fase rialzista quindi la rotazione dei capitali sta premiando l'Europa che era sconto la stessa rotazione al momento non sta andando a premiare le aziende a wall street piccole che hanno grande valore che il mercato le sta ignorando offrendo paradossalmente un regalo a chi le sa vedere e in questa fase diciamo in cui non sono considerate nel complesso gli indici sono avranno diciamo meno verve sul breve rispetto a quante ne hanno mostrato in questo trimestre ma dovrebbero chiudere il 2024 forse anche più in alto rispetto agli attuali valori ma non senza diciamo senza gobbe senza sbalzi eccetera anche perché obiettivamente il mercato ha bisogno anche di rifiatare di riposare di fare benzina un po più in basso eventualmente per trovare l'energia per provare a risalire ho sintetizzato bene quello che può che racconta che descrive diciamo il tuo modello in questo momento per i prossimi mesi perfettamente perfettamente anche perché in natura non abbiamo alberi che crescono all'infinito cioè a un certo punto si fermano e poi arrivano le stagioni appunto oggi cambio stagione ed è quindi la ciclicità che c'è nel mercato induce ci indica ad essere adesso nel secondo trimestre un po' più prudenti a non forzare la mano come si poteva forzare la mano all'inizio dell'anno o a dicembre quando i segnali erano tutti nella stessa direzione torneranno ad essere nella stessa direzione ma all'ultima parte dell'anno quindi avremo poi avremo modo credo di incontrarsi nuovamente per fare un punto della situazione un nuovo aggiornamento sui grafici ultima domanda breve paolo volevo chiederti se appunto le magnifiche 7 sono un po stanche da un questo punto a parte che non tutti le chiamano ormai magnifiche 7 visto che comunque ci sono ad esempio apple che un po diciamo in difficoltà in questi ultimi mesi comunque le grandi aziende che hanno tirato la carretta sono un po stanche a wall street oppure diciamo sono temi ancora forti nel medio lungo periodo a tuo avviso ma il resto il tema resta forte perché il tema dell'intelligenza artificiale è un tema di cambiamento importante del mercato però a mio avviso ci sono i sintomi di aver già scontato tanto quindi la salita che ha fatto ad esempio il titolo nvidia che ricorda molto quella che fece sisco nel tra il 99 e il 2000 anche come metriche come durata e come ampiezza di movimenti potrebbe diciamo far pensare che gran parte della strada che dovevano fare è stata fatta in quei settori e poi magari usciranno nello stesso settore nuove realtà nuove aziende che andranno in concorrenza con con queste e faranno a loro volta performance importanti come è successo poi anche nel negli anni 2000 con sisco sisco non è che non ha continuato più a fare però non è stata più il leader del 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 suo settore quindi è stata sostituita da altre realtà superata con tecnologie con nuove tecnologie credo che questa è un po la storia generale dei mercati quando la torta si fa grande appetitosa chi ha fame si mette a tavola quindi questo è è sempre successo e succederà non sarà diverso questa volta succederà anche questa volta quindi non sarà un unico attore a fare a prendersi a mangiarsi tutta la torta sì diciamo che ricordando quello che è successo con internet prima c'era all'inizio c'era Yahoo che sembrava diciamo la leader e Google è spuntata dopo e ne ha preso diciamo la scia vincente nel lungo periodo quindi le nuove stelle dell'intelligenza artificiale forse le vedremo le vedremo più in fondo io ti ringrazio Paolo chi vuole mi contatta per email anche per avere i pareri o magari fare l'accesso ai miei servizi mi ha messo l'email per il contatto io ti ringrazio ti ringrazio e ci diamo appuntamento tra qualche mese per l'aggiornamento consueto va bene alla prossima grazie Paolo ciao un caro saluto a tutti ciao 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 ciao